Grazie, siamo quasi in dirittura d'arrivo, abbiamo Arianna e Fausto di nuovo sul palco prima entrambi al saxophone, adesso invece Fausto al sax, Arianna al piano e con l'aiuto di noi insegnanti, il brano è uno standard jazz, quindi qualcosa di molto complicato che sicuramente suoneranno bene, spero il brano è All the things you are 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 All the things you are